Ciao a tutti, in questo video vediamo come scrivere in grassetto in qualsiasi sito che lo supporta o in qualsiasi campo di testo. Questa è una funzionalità che si può applicare su diversi siti che lo supportano, quindi Facebook, YouTube, Telegram. In realtà è una cosa molto, diciamo, semplice e a differenza di altri sistemi non andremo a utilizzare l'HTML, quindi fare il carattere in grassetto, ma utilizzeremo proprio dei caratteri che ci vengono messi a disposizione dall'alfabeto UTF-8. Quindi se noi andiamo a scrivere per esempio ciao su questo sito che si chiama Lingo Jam, vi lascio poi il link in descrizione, come potete vedere vi genera in automatico la stessa scritta ciao, ma utilizzando non un font diverso, ma proprio dei caratteri speciali che vengono rappresentati in questo modo. Infatti se voi andate a fare poi il cerca, questo ciao non corrisponde esattamente a questo ciao, è solo un qualcosa che a noi ci permette di renderizzare in questo modo questi caratteri. E una volta che abbiamo appunto il ciao in grassetto, possiamo metterlo dappertutto e viene renderizzato in questo modo. L'unica cosa che dovete fare, diciamo, un po' di attenzione sono le lettere accentate. Se voi mettete per esempio una E accentata, per esempio questa, vedete che non esiste un carattere speciale che rappresenta l'E accentata. Quindi tenete solo presente queste cose e niente, fate appunto i caratteri in grassetto, potete metterli su tutti i siti. Quindi c'è qualche sito che magari non vi fa mettere i caratteri speciali, vi fa solo mettere i caratteri di base, però in generale funziona dappertutto. E qua ci sono, diciamo, tutte le varianti possibili, immaginabili. C'è anche questa qui con lo sfondo nero e le lettere bianche. E che dire, questa era l'introduzione per le persone normali, tra virgolette. Se invece siete degli sviluppatori e volete un attimo capire che cosa succede dietro le quinte, questo qui appunto era il ciao normale, vi consiglio di andare ad aprire l'inspector e vedere un pochino che cosa succede. Tra l'altro, molti di questi caratteri possono essere utilizzati anche come variabili. Quindi se volete fare uno scherzo a un amico sviluppatore o volete farlo un po' impazzire, invece di utilizzare, diciamo, le variabili con i caratteri normali, potete utilizzare appunto questi caratteri speciali. Per esempio, se io vado a utilizzare questo di ciao, come potete vedere, mi dà errore perché non esiste nessuna variabile fatta in questo modo. Tuttavia, molte di queste scritte si possono utilizzare anche come testo per le variabili. E quindi adesso abbiamo un ciao che vale 4 e un altro ciao, questo qua, che vale 1. Quindi pensate come può impazzire uno sviluppatore se si trova queste cose in mezzo il codice. Tuttavia, ci sono anche altri aspetti interessanti di questi caratteri particolari, che sono per esempio la lunghezza. Quindi se voi prendete il ciao normale e scrivete appunto length, vi dà 4. Se voi prendete il ciao speciale, vi dà come lunghezza 8. Quindi fate anche attenzione se veramente volete includere questi caratteri speciali nei vostri siti. E tuttavia, diciamo, sono gestibili, però bisogna fare un po' di attenzione perché se noi andiamo a, per esempio, prendere la, diciamo, la prima lettera, come potete vedere, non ci viene data la C, ma ci viene dato un carattere che in realtà è un carattere tecnicamente corrotto perché non rappresenta nulla. Tuttavia, se invece utilizziamo slice, possiamo effettivamente accedere al carattere. Però, come potete vedere, occupa due posizioni, quindi crea un po' di confusione gestire queste stringhe particolari all'interno del nostro software. E che dire, tuttavia ci sono, diciamo, dei modi per generare queste lettere e anche per accedere al giusto valore che viene rappresentato dal carattere speciale. Per esempio, con... Quindi, selezionando il carattere, noi possiamo fare charcode at, ok? E questo numero molto lungo è quello che rappresenta il carattere, anzi, facciamolo così. Questa è la C normale, maiuscola, e adesso andiamo a mettere la C speciale. Eia. Ok. E in questo modo qua otteniamo effettivamente il codice che rappresenta questo carattere. Quindi, viceversa, se noi abbiamo questo numero e vogliamo ottenere il carattere speciale, possiamo fare string.fromcharcode. Mettiamoci questo. E, come vedete, anche qua non è in effetti il carattere corretto. Il carattere corretto è questo. Allora. Ok. Quindi con codepoint at. Quindi questa è la vera sintassi per accedere a questo valore. Quindi mettiamo di nuovo questa C. Quindi codepoint at e otteniamo questo numero 119.000, eccetera. Viceversa, se vogliamo utilizzare questo numero per ottenere questa lettera C in grassetto, dobbiamo fare string.fromcodepoint. E qua andiamo a mettere lo stesso numero che avevamo qua. E quindi questo è lo stesso carattere speciale che siamo riusciti a ottenere in questo modo. E quindi una volta che sappiamo il codice, possiamo anche ciclare e quindi vedere quali sono tutti i caratteri a disposizione. Per esempio, 7. Ok. 8. E quindi qua escono fuori tutti i caratteri speciali che assomigliano a quelli che siamo abituati a vedere. Tra l'altro, ho visto che su YouTube, se voi inserite questi caratteri speciali, in molti casi riuscite anche a fare una ricerca, diciamo, con questi caratteri speciali. Però in molti altri siti non vi viene dato nessun risultato, perché appunto sono dei caratteri completamente diversi. Quello che si può fare di carino ancora è quello di ciclare e stampare a video tutti i caratteri che sono effettivamente a disposizione. E quindi con questo codice qua, appunto, qua istanziate una variabile a stringa vuota e poi fate un ciclo. E andate a inserire tutti i caratteri che sono disponibili, appunto, in UTF-16. E poi stampate a video tutti i caratteri che ci sono. Quindi qua usciranno veramente tutti i caratteri supportati nativamente dal vostro sistema operativo. E come vedete ci sono anche simboli in altre lingue. Ma la cosa interessante è che ci sono anche tutti gli emoji. Quindi se volete avere in una pagina unica tutti gli emoji a disposizione, con questo codice che vi lascio in descrizione potete vedere voi stessi quali sono i caratteri stampabili. E come potete vedere sono tantissimi. Alcuni sono colorati, però questo dipende dal sistema operativo. E poi, appunto, ci sono gli emoji. E' curioso vedere come ci siano anche molti buchi vuoti. Quindi i buchi vuoti significa che o non è supportato dal vostro sistema operativo, oppure effettivamente nella mappa caratteri non esiste nulla. E quindi ci sono quelli, appunto, stelline, cerchietto e tanti altri caratteri. Questi qua sono quelli cinesi. E a volte è anche un po' lento a scrollare, perché comunque ci va più potenza di calcolo per renderizzare tutti questi caratteri. E andiamo alla fine. Questi sono quelli coreani. E come vedete ci sono molti buchi vuoti ancora. Comunque, questi qua sono gli ultimi caratteri a disposizione. E questo, appunto, il 65 millesimo carattere che si può stampare. Che dire, questa era questa cosa un po' carina dei caratteri in grassetto, che, appunto, potete utilizzare praticamente da tutte le parti che non vi vietano di non far, di non utilizzarli. E che dire, questo è tutto. Come sempre, mettete un mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Vi saluto e ci vediamo in un altro video. Ciao a tutti!